E adesso arrivo qua per svelare l'ultimo passaggio, perché questa band capitanata dal nostro Sartorici in realtà deve ad Alberto Borio, il trombonista, questi... come si può... riduzione no? Insomma, allora, grandi organici, caonbesi per quanto l'ha scritta questa musica? 13 piatti, più ritmica di 4 elementi. Quindi una marea di musicisti. Big band, infatti big. L'avete ridotta e lei ha scritto le parti. Sì, perché su una macchina non ci stavamo, quindi abbiamo cercato di ridurre le cose per motivi di bagagli e di benzina. No, a parte gli scherzi, questo è un po' un esperimento che è nato insieme a Emanuele qualche tempo fa. Era un po' l'esperimento di utilizzare le parti originali per la ritmica, quindi tentare di avere lo stesso drive, lo stesso risultato ritmico del driving band e cercare un riassunto dei fiati, però più fedele possibile all'originale. E chiudono la nostra puntata con shiny stockings, anche questo, caonbesi. Grazie. 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 Grazie.